Ho visto la scala degli uomini, ho visto un mammut molto grande. Ti sei divertito? Sì. Sono centinaia i turisti che hanno visitato il Museo del Paleolitico di Sernia in occasione del lunedì in Albis. Il clima incerto e la temperatura non propriamente estiva hanno indotto molte persone a preferire mete culturali, abbandonando almeno per quest'anno l'idea della canonica scampagnata. Ed allora il Museo del Paleolitico ha aperto le sue porte per mostrare ai visitatori, provenuti da ogni angolo della penisola, l'immenso tesoro contenuto al suo interno e purtroppo sconosciuto e più. Molti, al termine della visita al paleosuolo, sono rimasti letteralmente affascinati dalle evidenze archeologiche, scoprendo così un territorio di cui prima d'ora ignoravano forse quasi l'esistenza. Pasquetta alternativa al museo, come mai? Beh, a noi piace molto visitare i musei. Oggi abbiamo chiesto al nostro albergatore qui in zona cosa poter fare ai Sernia e lui ci ha consigliato il Museo Paleolitico che è molto bello. Sono documentato su internet e mi sembra una cosa molto interessante. Purtroppo sconosciuta e più? No, infatti noi non sapevamo dall'esistenza di questo posto per caso. Stamattina abbiamo scoperto su internet che è stato aperto da pochi anni, è recente, quindi per curiosità, noi veniamo dalla Puglia, siamo pugliesi, ci piace curiosare in giro così. È stata una visita interessante e inaspettata, il polo ci è piaciuto e secondo me valorizza un'esperienza interessante sia per un adulto che per un bambino. I pannelli sono pensati sia per adulti che per bambini e quindi è stata una mattinata ben spesa. Perché Pasquetta al Museo? Perché dovevamo investire la giornata e sapevamo che c'era un insediamento vicino da dove abitiamo, vicino da dove siamo per, abbiamo passato questo periodo di teste e quindi abbiamo deciso di fare questo piccolo viaggetto per qualche ora culturale. Com'è andata la visita al Museo? È stata molto interessante, non pensavamo che in questa località ci fosse una cosa del genere e ci è piaciuto. È una bella realtà scoprire quest'area. Perché avete scelto di fare Pasquetta al Museo? Io ho scelto di fare Pasquetta al Museo perché eravamo frosoloni e il tempo incerto, allora abbiamo deciso di fare una visita culturale. Da dove venite? Dalle Marche. Molto bene, abbiamo visto delle cose veramente molto belle, molto interessanti. Sono la nostra storia, rappresentano la nostra cultura, è stata un'esperienza meravigliosa. Come siete venuti a conoscenza di questo luogo? Noi siamo quali del luogo, mia moglie ti collega a Potturno, quindi non abbiamo mai avuto l'opportunità di venire a vedere questo splendido museo. Ci è piaciuto veramente molto. Buongiorno di Pasquetta, io ho visto un servizio in Rai diverso tempo fa su questa esposizione, su questo museo, però non abbiamo avuto la possibilità di venire. Oggi, insomma, che stiamo un po' girovagando per il Molise, abbiamo deciso di fermarci. Sapevate che qui è stato trovato il resto umano più antico d'Europa? Non lo sapevo assolutamente. L'abbiamo scoperto adesso, è una cosa interessante, ci ha fatto piacere, insomma. Non siamo abruzzesi. Il Molise esiste? Sì, come no? Noi siamo abruzzesi, quindi siamo vicini di casa, quindi va benissimo. Ma vi è piaciuto? Eh, molto, sì, sì, sì. Molto, molto bello. Direi con varie fasi nel tempo che, insomma, danno proprio un'idea di quello che poteva essere molto, molto anni, molti anni fa. Come è andata? Benissimo, benissimo, perché ero a conoscenza di questo museo, però non ero mai riuscito a venirci perché era quasi sempre chiuso. Però fortunatamente abbiamo saputo che era aperto oggi e siamo venuti. Da dove provenite? Da Vasto. Si aspettava fosse così bello? No, non me l'aspettavo. Non pensavo che fosse organizzato così e penso che è molto interessante anche per i bambini, per le scuole, anche per noi non più giovanissimi. Ci darà una mano a promuoverlo? Senz'altro, senz'altro. Mi stavo già mandando delle foto agli amici, a tutti. Grazie a lei. Lei? Sì, sì, anche per me è la stessa cosa. È stata una vera sorpresa. Tra l'altro non era neanche programmata, quindi una sorpresa, una sorpresa. Da qui, soprattutto per i ragazzi, si ha un'idea di quella che è stata la storia dell'uomo prima e dopo. Poi, quindi, con queste cose concrete che abbiamo avuto l'opportunità di vedere, come le ossa, le mammut, eccetera, molto interessante. Lei da oggi potrà dire che il Molise non solo esiste, ma è anche esistito? Esiste, esiste. Sono certamente uno di quelli che dirà che esiste e c'è anche delle belle cose da vedere. Grazie. Grazie.